Tornano i dialoghi di vita buona, secondo appuntamento del secondo ciclo, vita naturale e vita artificiale, ma soprattutto anche interrogarsi questa volta sul confine che è dato sempre più labile, tra ciò che è costruito dall'uomo e ciò che è natura, ciò che è dato da Dio. Beh certo, le neuroscienze in particolare, la biotecnologia, la bioingegneria genetica, eccetera, oggi ci annuncia campi nuovissimi che cambiano l'alfabeto anche genetico dell'uomo, quindi siamo di fronte a grandi sfide su cui anche i grandi scienziati incominciano a fermarsi a riflettere su dove va l'uomo. Io credo che però sia importante riconoscere e valorizzare l'apporto delle neuroscienze, della bioingegneria, di tutto quello, è cambiato anche il codice genetico del DNA, quindi sia molto importante riconoscere questo, ma sia anche molto importante riconoscere la umana esperienza, per usare le parole appunto del Cardinal Scola, della vita, e quindi in un approccio anche, come dire, fenomenologico della persona, io ho la mia corporità, la mia affettività, ma la mia intenzionalità, cioè non basta la cura della malattia, la cura del malato, occorre partire dalla persona, e la persona almeno nel vissuto è sempre altro, è sempre oltre, è sempre la sua trascendenza, così la malattia non è mai la parola ultima, anche negli stati vegetativi, anche nelle situazioni più terribili. Questa è la riflessione su cui l'uomo postmoderno non può esimersi di tornare a pensare e a riflettere. Quindi certamente la cura, ma soprattutto un prendersi cura, quello che oggi va sotto il termine notissimo di care. Esatto, care e caring anche, perché il prendersi cura è dunque un itinerario che mette conto di accogliere, di raccogliere, come dire, l'itinerario biografico di ciascuno. Tra l'altro nel tema delle grandi non autosufficienze, delle malattie degenerative, degenerative si riflette oggi anche da parte degli studiosi tra due parole che sono molto diverse. La prima parola è la fragilità, è il quadro nosologico e nosografico delle patologie, ma c'è la vulnerabilità, la vulnerabilità dice la mia storia intrapsichica e interpersonale di fronte agli eventi della vita. Allora la non vulnerabilità o la vulnerabilità custodita dentro le speranze di un senso della propria vita aiuta anche il percorso nella malattia più terribile, più tremenda. Il caring vuol dire questo, cioè accogliere la persona nella sua identità biografica e nel suo itinerario esistenziale.